Non è l'ultima del convegno, sono gli allievi con cavalli di quattro anni a completare questo pomeriggio. Nobodi numero tre, c'è in salchi buon pane, alto taleggiatore Nikita Valli, con Beneduci, la più gettonata, mezzo meccanica in movimento. Sono in diciannove, è un allineamento quasi perfetto. Via la macchina. Ci agganciano il quattro e il cinque, alla chiusura, allargo, Neville Mail, nei confronti di Nobodi, proprio allargo, Niet. Poi la Nikita, cavalli impiegata, tredici e nove in lancio, siamo completamente la stessa. Sta passando Fico e Niet, il dici otto a tabellone, galoppa anche il dieci in Noiré, quattrocento in trenta e così al comando il numero otto, Niet. Sposta Nikita Valli, per non farsi chiudere. Cavalli dopo, seicento, la Nikita punta in avanti, quarantacinque e due, seicento, gradatamente la targata Valli va a diretto contatto con i primi. Nella sua scia è Newport B numero nove. Penultima curva, ma Niet.